buongiorno ragazzi allora ho comprato due tre articoli per fare un confronto con l'italia e vedere quanto costano i prodotti allora questo è il lavash sono due pezzi di lavash è un pane è un pane locale fatto a mano e viene sfornato in continuazione quindi non è preparato la notte poi e poi venduto di giorno ma viene preparato in continuazione dunque questi sono due lavash poi ho comprato un cacci puri che è un pane con il formaggio sopra qui non si vede perché purtroppo è talmente buono che è già stato mangiato più o meno grande come questo come la vascia allora due la vascia un cacci puri ho pagato i 120 rubli che al cambio in euro sono un euro e 71 centesimi con il cambio toale sono un euro 70 rubli molto bene l'anno scorso era sceso era sceso a 91 euro 90 rubli all l'anno scorso a febbraio e quindi sarebbe costato anche meno comunque il rublo è stabile sui 70 un euro 70 rubli 71 72 da qualche anno a questa parte questa è una scatoletta di sgombro di sgombro vediamo se c'è il peso l'avevo visto prima 240 grammi sono 90 rubli 90 rubli che significa prendo la calcolatrice prendo la calcolatrice trancella 90 rubli 90 un euro e 28 centesimi molto bene poi abbiamo una scatola di riso da 400 grammi da 400 grammi l'ho pagato 60 rubli quindi calcolatrice la mano 60 rubli sono 85 centesimi di euro un pacco di carta igienica che serve sempre devo guardare lo scontrino mi sembra sì 105 rubli sono quattro rotoli poi magari vediamo anche se capisco qua la lunghezza allora abbiamo detto 105 5 cento 5 valuta non è no no qua c'è qualcosa che non va voluta 70 aspetti aspettiamo un attimo perché c'è qualcosa ah 71 euro 105 mi dice 105 1,5 ok 70 valuta estera 1,5 ok bene la lunghezza è ma qui è molto difficile vediamo allora c'è qualcosa qua però vediamo cosa sono 180 doppio velo 184 strati un rotolo 23 metri sì ok ti dicono anche la larghezza e la lunghezza va bene comunque ecco tutto qua la benzina l'ho scritta su facebook adesso non mi ricordo era meno di 50 centesimi poi dovrò guardare bene il gasolio costo molto molto bene e controllerò bene il prezzo del gas per autorazione ma se non ho sbagliato ero di fretta se non ho sbagliato dovrebbe essere sui 10 centesimi però controllo queste sono cose che poi faccio una foto e controllo l'avevo scritto qui vediamo il prezzo della benzina mi ricordo che era solo al di sotto ben al di sotto di 50 centesimi dovrei vedo se riesco se riesco un attimino a recuperare